Le persone fanno tutte le scale della Vedamentina a piedi per arrivare a quel traguardo. Siamo molto contenti di averlo restituito ai napoletani e a tutte le persone che ci vengono a visitare. La recetta e riapertura del Belvedere di San Martino al Vomero ha visto al lavoro gli uffici tecnici del Comune in collaborazione con quelli della Quinta Municipalità. Siamo intervenuti per ripristinare la porzione che era danneggiata, quindi si è fatta un'importante opera di consolidamento della balaustra per scongiurare ulteriori anche cedimenti, oltre ad una riqualificazione di tutta l'area superficiale quindi con la rimozione di tutte le scritte antestetiche e dei graffiti che nel corso del tempo erano stati provocati da ragazzi. Un intervento in sé non complesso ma con un elevato valore anche simbolico perché la ostruzione che era stata posta sulla balaustra di San Martino negli ultimi cinque anni aveva creato appunto una situazione di degrado. Dopo l'intervento di recupero e di pulizia la balaustra è stata ricoperta con una speciale vernice protettiva. Questo punto del territorio è un punto prezioso e ancora di più bisogna intervenire per restituire complessivamente il suo antico splendore intervenendo anche sulla porzione di muraglione sottostante Castel Sant'Elmo che bisognerà poi rimuovere. Ringrazio la Presidente Cozzolino della Municipalità che si è fatta parte attiva e che ci ha aiutato a portare avanti tutte le procedure necessarie. Ringrazio la sovrintendenza, i funzionari del Comune di Napoli che hanno garantito con speditezza questo intervento e di questo siamo particolarmente contenti.